Ogni sistema appartenente ad un universo. I fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di VB. Salve! Dopo i primi saluti e convenevoli diritto, noi porgiamo a te e a tutti i tuoi fratelli la nostra energia e comprensione perché la prosecuzione del vostro cammino sia profondamente armonica, sia sempre l'armonia, regina sovrana, dei vostri cuori. Salve, sorella! Ci rivolgiamo a te con più enfasi riconoscendo il lavoro che svolgi e svolgerai per l'adempimento del disegno divino. È un lavoro che porta tanti fratelli a sapere che la vita non è solo umana ma fa parte dell'intero sistema cosmico poiché tutto vive, vibra e pulsa in armonia nella speranza di una comune evoluzione. Tale unione evolutiva porterebbe tutti gli esseri a conoscere la vita e il cammino altrui e tutte le speranze che ogni creatura racchiude in sé per procedere lungo il suo percorso proiettandosi nell'infinito, patria di tante civiltà ed esperienze. Ogni sistema appartenente ad un universo percorre la sua strada, realizza la sua espansione e ottiene il suo miglioramento tendendo sempre di più al completamento della propria evoluzione. È una legge cosmica che non permetterebbe mai l'intersecarsi di un universo con un altro perché ognuno durante la sua vita deve seguire un suo itinerario restando sempre nell'ambito della propria appartenenza. I diversi cammini però pur non intersecandosi l'un l'altro compiono e rispettano il loro tracciato nell'accordo di tutti gli universi. La rotazione da qualunque parte la si voglia guardare è sincronizzata in un percorso armonico e contemporaneo di tutto il movimento cosmico. Ogni pianeta ha la sua autonomia perché cammina e svolge il suo compito indipendente ma contemporaneamente connesso con tutto il sistema. In poche parole ognuno vive nella perfezione rispettando le leggi cosmiche. Ogni pianeta ha il suo coordinatore e tutti insieme fanno capo alla grande legge. E come per voi, fratelli umani che avete vicino la vostra guida e il vostro angelo custode. Tutto ciò che si svolge nel piccolo ha una corrispondenza nel grande facendo sempre parte del movimento assoluto.